Non puoi confere a tutti gli italiani, tutti lo conoscono Svevo una cosa, questa cosa non funzionerà per me quel top role che Ermis faceva a fare... ...to il ragazzo... Sì, sì, sì... Io avrei ripetuto Ermis, ricordi quello? Translate quella cosa in italiano Travis Bajent, non hai mai sentito parlare, sai chi è? No, non so... Uno che era forte di sinistro, che ha battuto a Voivoda una volta, non so chi è No... Però hai visto il video che Tappa parlava di te, quello penso che l'hai visto proprio Hai una risposta da darvi Parlo adesso a Travis Bajent Hai le palle, tirarle fuori e vieni a fare il match Non parlare come devo Lara, vieni a fare la sfida Ti aspetto Oh, il gasto male, ok perfetto Left or right? Both, no problem Both The Beast, Travis The Beast Bajent The Beast Hermes Gladiator Gasparini Esatto Eh, Travis... Oh, se vuoi Lo batti così, Travis Occhi chiusi Così Bene, bene No, fai tutto il libro che devo tirare con uno delle braccia Faremo anche questo clip per il mitico I'll have to talk to Lindsay actually Noi Never thought I'd make it this far, but it's all I do Several shots of chasing the stars to falling through You talk about squirting when you're rocking your peeps All I care about now is...